All'insegna del rinnovamento si deve rimuovere il concetto di Citroën e delle sue versioni DS. DS oggi è un marchio indipendente, ma ci dovremmo fare l'abitudine. Se inizialmente era una variazione più chic e premium della Citroën, ora si tratta di un brand a sé. Per questo sono state mantenute le caratteristiche di base dei due modelli più compatti, mentre sono arrivati nuovi motori ad arricchire le potenzialità per prestazioni, consumi ed emissioni. Il nuovo tre cilindri che muove la DS3 è un 1.2 da 110 CV sovralimentato, affiancato da un aspirato da 82 CV già visto nelle vetture del gruppo francese. Con il nuovo 110 CV turbo, però, vero protagonista di questi cambiamenti, non solo la spinta è quella che ci si aspetta da un motore da oltre 100 CV montato su una vettura relativamente piccola, ma anche vibrazioni e rubidità di funzionamento tipiche dei tre cilindri sono tanto ridotte da far dubitare che si tratti proprio di un tre cilindri. Rinnovato anche il 1.6 diesel, qui siamo di fronte ad un classico quattro cilindri in linea che ha guadagnato appena 5 CV rispetto alla versione precedente, ma riuscendo al contempo a passare da Euro 5 a Euro 6. Per ottenere questo adeguamento alla normativa, gli ingegneri francesi sono intervenuti su oltre il 50% delle componenti per ridurre gli attriti e di conseguenza consumi ed emissioni inquinanti. Restando in tema, è interessante sottolineare come l'impianto di scarico, comprenda un catalizzatore di ossidazione situato all'uscita del motore, che elimina idrocarburi e monossido di carbonio della combustione. C'è poi un nuovo modulo catalizzatore SCR posizionato a monte del filtro antiparticolato, che trasforma fino al 90% degli ossidi d'azoto in vapore acqueo e azoto grazie all'iniezione di ADBLU, miscela di acqua e urea. A valle di questa catena, poi, si trova il filtro antiparticolato additivato per eliminare fino al 99,9% del particolato. Nel dettaglio, il posizionamento del catalizzatore SCR a monte del filtro antiparticolato è l'unico sistema di post-trattamento in grado di ridurre contemporaneamente fino al 90% delle emissioni di NOx, riducendo fino al 4% le emissioni di CO2. Tecnicismi a parte, il nuovo turbodiesel spicca per prontezza di risposta a qualsiasi regime e, nonostante la potenza non sia da primato, il mix ben calibrato con un assetto duro al punto giusto regala un grande piacere di guida.